Bisogna dare una sterzata adesso, Lanza riceve De Cecco Ricci, c'è lui Fabio Ricci, sempre presente quando viene chiamato in causa da Luciano De Cecco, si nasconde sotto la sabbia ma poi quando arriva è letale. Dieci pari adesso, si riprende con Aleksandr Atanasievic in battuta, aspetta il fischio dell'arbitro Bata, da posto sei, arriva adesso, alza il pallone Aleksandr Atanasievic, c'è però Zavornok, attacca ora Iosifov Murato, sempre lui, spucca dalla sabbia Ravennate, Fabio Ricci, sorpasso contro sorpasso Perugia, alza il pallone Iosifov, riceve Lanza, De Cecco per Fabio Ricci, stavolta Murato viene letta bene da Beretta, De Cecco allora in sinistra, su Fabio Ricci, è il suo momento, De Cecco l'ha capito e tutto a risultare con lui, 12-11, è tanta roba, poi tu lo simolo sai meglio di te, di me, attenzione alla ricezione di Rizzo su Leon, alza Orduna precisa per Zalano, Murato, Murato da Ricci, 13-11, 13-11, ancora lui, ancora Fabio Ricci, sta dicendo la sua, sta dicendo la sua in maniera prorompente alla Candy Arena.